buon pomeriggio a tutti ragazzi e bentornati qui con me su kb tv siamo qui per fare delle una modalità come si chiama modalità campione modalità qualcosa del genere dove devo sfidare jenson button vabbè diciamo che diciamo questi sono diciamo che diciamo vabbè che questo è un episodio riempitivo nel senso che inizieremo il campionato online tra qualche settimana e quindi per ora vi sto solo facendo questo questo video solo per per dirvi che inizieremo il campionato online di seguire la pagina facebook stiamo decidendo la data il giorno ovviamente per la l'orario e tutto io preferirei prima a il tempo non è bellissimo preferirei prima aspettare che mi diano l'orario dell'università perché se poi vi dico un giorno e lo devo cambiare non ne vale la pena quindi ve lo dico ah quindi ci sono button massa vettel e io sono non so come io sono nono e ho due giri penso una roba così no ok eccoci qua ah safety car in pista vabbè vabbè vi dicevo appunto che inizieremo a avere il campionato online praticamente come si fa facciamo una stanza in 16 giocatori al massimo quindi una volta che decideremo quali sono i giocatori sicuramente questi faranno il campionato poi qualcuno potrà fare oddio sono un po lungo qualcuno potrà fare magari le random però però sicuramente non ci si potrà aggiungere in molti piove non vedo niente io non guido da un mese non guido da un mese a parte la random race che volevo fare ma assi giusto volevo chiedere scusa anche a no aspetta riavvia volevo chiedere scusa anche a tutti quelli che con cui ha fatto la random race mercoledì perché nel senso mi si è bloccato il pc mi si è bloccata la playstation si è bloccato tutto ho fatto solo due gare e basta vi chiedo scusa ma veramente si era bloccato qualunque cosa ho anche provato a scriverlo un paio di volte ma pensavo fu se è ripartito e invece no e vediamo se riesco a fare vedi carburante più cinque giri quindi possiamo tenere mi sa che non si fa così il flashback funziona capirai ne ho solo due vabbè no 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 basta stavo spercando tutto no ma non ce la posso fare ragazzi cioè sapete come sono messo io sul bagnato vero quanto sono impiccato tutte le volte che gareggio sul bagnato cioè non non è non è umano loro non sbagliano niente io posso anche accelerare piano frenare piano fare tutto piano ma non c'è verso di stargli dietro cioè guardate quanto vanno giuro non è un mio limite probabilmente ragazzi ma veramente io non non lo so non è che io posso fare più di così è cioè sì posso pian piano migliorerà sicuramente però è veramente loro non lo so mi danno in accelerazione mi danno in frenata io non so come fare sì no 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 vabbè uso un flashback ma la gara è iniziata da un metro vabbè lasciamo perdere ma è giusto per andare un po' più avanti perché sì va bene cioè non c'è speranza ragazzi non non a parte che non so neanche che controlli ho adesso scusate un attimo eh cioè giusto per controllo di trazione completo cioè questo è il controllo di trazione completo ma no no si è messi bene cioè controllo di trazione completo e l'auto si gira anche se non accelero non è che dici se accelero no no posso anche non accelerare l'auto si gira uguale ho creato giù un cartello che mi stava antipatico vediamo ragazzi vabbè a sto punto portiamo a termine quello che riusciamo a fare vediamo come arrivo dai cioè non ho accelerato ragazzi non ho c'è giuro non ho c'è giuro non ho c'è giuro No no...c'è non ho Silicon Role Non lo so, ragazzi, vi giuro, non so cosa dirvi. Io posso anche non accelerare. E il risultato è lo stesso. A parte che a 10 all'ora che va così fuori non si è mai vinto. Sei al nono posto, grazie. Sono come su un partito, solo che sono a 20 secondi da dove ho partito. Cioè, non riesco veramente a capacitarmi di come facciano ad andare così forti. Non è che io adesso faccio errori, poi vabbè, sicuramente si può andare più forte, però... Non trovo un punto dove dici, ah, cavolo, qua ho perso veramente due... Oh, cavoli, qui c'era la curva, non mi ricordavo, è Silverstone, è vero? Qui, ecco, tipo qua, posso dire, vabbè, ho sbagliato, però... Capito, non è che ho perso così tanto, ho perso un pochino, è vero? Però non è che ho perso 6 secondi. E loro vanno a una velocità, cioè... No, non potete capire. Sì, il problema è che devo vincere, non devo avere un vantaggio di 3 secondi su quello che segue. Perché ne ho 6 di ritardo su quello che ha davanti, più che altro. E questo è il problema. Adesso vediamo se riesco a recuperare qualcosa, ma... Un po' godo. Grugiana ha una penalità di tempo. No, c'è bisogno di superarla perché devo arrivare primo. No! Ma ora l'auto tiene di più, se non vado errato. Forse aveva le gomme fredde anche. Forse avevo anche le gomme fredde. No! Ora mi sembra più inchiodata. Oh, vai che si guadagna! Vai KB, dai! Dai, così! Oh, chissà perché il primo mezzo... Vabbè. Il mezzo giro iniziale, no? Non so che se il diavolo è successo, mi danno 2 secondi e mezzo, no? Adesso sto guadagnando. E tantissimo anche. Ma che roba! Cioè, nel primo quarto di giro, no? Ma che roba! Nel primo quarto di giro mi danno 7 secondi, no? Oh! No! Non so che mi dà la penalità, eh. Ma guarda quanto va un piano! Ma perché va un così piano? Sono primo... Cioè, in una curva ne ho passati 5. No, ragazzi, c'è, non ha senso. Giuro, non ha senso. Cioè, non ho capito. Mi è andato mezzo secondo in mezzo giro prima. Neanche mezzo secondo in mezzo giro. Mi è andato 6 secondi in mezzo giro. E poi gli do tipo 6 secondi al giro. Ma va che roba! Gli ho dato 10 secondi in due curve. No, non ha senso sta cosa, ragazzi. Il nonsense più totale. E non è che io sono migliorato di così tanto, eh. Cioè, non è che sono migliorato di 11 secondi in un settore. Non ci credo. Vabbè. Io, di certo, non ho guadagnato sul mio giro di prima 20 secondi in un giro. Cioè... Dopo vediamo il giro. Non credo di star girando in 1,35 in questo giro, eh. Poi mi sbaglierò anche, eh. Però secondo me non sto girando in 1,35. Vedi, 8 decimi me li sono dati. Dici, va bene, sono migliorato. Ci sta anche, non giocando da un mese sono bagnato poi. Cioè, ci sta che mi miglioro, assolutamente. Ma non mi do di certo 20 secondi. Loro non so cosa è successo. Non lo so, giuro. Deve essere impazzita l'IA. Ma vabbè. Io vinco, ragazzi. Vinco. Contentissimo. Vediamo se anche con la penalità vinco. Posizione guadagnata è 8. Giro più veloce è 1,46. Direi che tutto sommato ci sta, ci sta. KB vince. Oggi alcuni avevano perduto una vittoria di Jenson Button. E invece ha vinto Goku KB. Va bene. Spero che comunque il video vi sia piaciuto. Ragazzi, molto particolare, se posso dire la mia. Basta, direi che per oggi è tutto e ci si vede. La prossima volta faremo un altro evento. Tanto a questo punto... A questo punto tanto vale farli tutti finché non inizia il campionato. Va bene. Bella.